Già domani il momento della nostra rassegna stampa. Mattino di Puglia Basilicata, cortocircuito la Morgese e sul Green Pass il Viminale Coraggia Rosa Ministra sui Controlli. Piace molto questa decisione di aver messo la signora che danza con i buchi neri le Olimpiadi dell'Orgoglio Azzurro che continuano. Alessandra Buonanno, prima italiana premiata con la medaglia di Iraq, uno dei riconoscimenti scientifici più prestigiosi al mondo. E intanto non lo dimentichiamo, 10 agosto, San Lorenzo, arrivano le stelle cadenti, per la verità non sanno la maggior parte di San Lorenzo, ma cominciano un po' prima e finiscono un po' dopo, però è la notte delle stelle cadenti. Mattino che ricorda però anche in Puglia 538esimo morto sul lavoro.